bella a tutti ragazzi lo xyuderone anche oggi con voi con un nuovo video di clash royale ho fatto una modifica secondo me interessante al mio main deck quello che utilizzo ovviamente per le scalate dato che il povero mago di ghiaccio era oramai fuori meta ho deciso di sostituirlo con un secondo attacco invece che una truppa di difesa e come vedete sto parlando ovviamente della riete da battaglia un attacco che secondo me potrebbe essere super comodo nel momento in cui io non abbia nel cycle log rider vorrei proprio vederlo insieme a voi anche perché tra pochissimo potremmo potenziare al livello 14 il tronco che secondo me si rivelerà super utile per riuscire a fermare determinate truppe partiamo subito con proprio la riete da battaglia giusto per inaugurarlo nel deck vediamo se viene viene counterato attenzione avete la battaglia così da un gruppo di signori abbastanza arrabbiati quindi andiamo a fare anche noi e a stoppare le sue truppe bombarolo che è devastante ripartire addirittura con log rider dall'altra parte riusciamo a fermare molto bene qui è necessario anche l'utilizzo di un tronco perché insieme alla torre può fermare la sua princess e guardate infatti log rider come può andare a martellare con una violenza incredibile insieme al bombarolo la torre di destra 1690 una partenza veramente ottima per questo primo attacco con il nuovo ariete da battaglia recuperiamo ancora un po di elisir e riaprirei nuovamente con la riete proprio adesso in modo che lui possa andare a counterarlo vai 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 mi sa che impatta mi sa che impatta non impatta ok un barolo andiamo ad aiutare il bombarolo con il mini pecca esatto via il miner proprio quello doveva succedere mamma mia il bombarolo c'ha questo attacco che è violentissimo e poi via 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 con log rider via con log rider vai 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 addirittura incredibile non aveva nulla per counterare andiamo a tirare giù la torre di destra molto 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 bene gioca un caballeros subiremo un po di danno ci sta a fa parte del gioco in realtà neanche così così tanto ariete da battaglia di nuovo dovrebbe avere l'elisir per giocare i barbari lui quindi lo lasciamo andare così ce li ha non ce li ha ariete la battaglia che va a impattare inesorabilmente contro la torre di sinistra 2700 wow che bella carta e non è maxata un barolo per il valchirione che andrà sinceramente a spostare vai subito con faccio faccio la predict faccio la predict non è arrivata la predict per un pelo attenzione ha tentato di predictare i suoi barbarozzi ora lui non ha la poison bombarolo dall'altra parte mini pecca tronco per togliere tutto questo macello e ci sta la poison lì ma è un po tardiva questa poison mi permette di riaprire con un eventuale hog rider anche per togliere un attimo l'attenzione della strega che viene ugualmente taggata dalla mia torre 1600 questi barbarozzi li toglierei proprio easy così lui non sapeva che io avevo la fireball non avevo mai giocata e andiamo a vincere questo primo game in una maniera abbastanza morbida direi non abbiamo subito troppo let's go interessantissima questa nuova introduzione la rita da battaglia che si rivela essere una carta potenzialmente vincente vediamo un altro game contro lol dei chiller possiamo inaugurare ancora con la riete in realtà obblighiamola a counterare lui gioca al valchirione attenzione oh porca miseria ottimo qui è fondamentale andare a fermare immediatamente il suo stregone di fuoco ok ora vediamo se mi aiutano i mascalzoni con lorda di scheletri ma da non doverla counterare direi proprio di sì va bene ci penserà qua poi il mio tronco qua in realtà è il lamiatore volevo dire ho sbagliato potevo giocare lo grader più velocemente mi aspettavo avesse un vortex oh my god era senza elisir vai 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 wow quanto fa male log rider 1.886 la sua torre di destra voglio che sia comunque la rete da battaglia a subire danno così il valchirione lo insegue viene taggato poi ovviamente non era tanto per fare l'attacco quanto per fermare la valchiria che infatti viene tolta dal bombarolo bombarolo che wow a 14 riesce addirittura a tirare un tag attenzione allo grinder andiamo a fermarlo doveva essere un pochino più rapidi con il con il mini non posso fargli giocare pensavo addirittura giocasse gli scheletrini mi ha fregato oddio è andata a counterare il mini pecca lasciando libero 1 grinder anche se counterasse adesso va bene lo grader perde una hit ma ha perso tantissimo qua lui un barolo dietro ripartiamo ancora con la rietta da battaglia che verrà canterato dal mago di fuoco probabilmente no dal valchirione forse arrivo uguale no non ce la fa nooo bravo a canterarlo qua peccato peccato c'è un bombarolo da solo che può partire lui giocherà dietro il mago di fuoco io potrei oddio ok fermiamo la valchiria ok non volevo che andasse sulla mia torre dall'altra parte lo grinder vado in predict esatto esatto e buone 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 buono è ottimo è ottimo è stato un gran predict bello bello gli abbiamo fatto malissimo gli abbiamo fatto e da battaglia a destra e lui deve difendere invece non difende mi serve il mini sul mago non esageriamo ripartiamo ripartiamo con lo grinder a sinistra dovrebbe avere anche gli scheletrini ma forse no non ce li ha non ce li ha non ce li ha 454 non siamo ancora a portata serve che il moschettiere si fermi un attimo sul valchirione oddio che ho grader pericolosissimo che ha giocato wow piano 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 oh my god serio bravo che bella partita beh lui se avesse perso la torre di sinistra poi avrebbe ovviamente perso anche la partita perché aveva l'altra torre a 8 e 76 wow partita da cardiopalma andiamo avanti ancora subito a spingere con log rider in apertura vediamo un attimino come la gestisce lui va a counterare con un principe principe e drago fermiamolo un secondo l'importante che non faccia la carica sulla torre quindi ottimo qua intanto il il bombarolo che ci aiuta forse un po troppo presto la detta della battaglia ma noi spingiamo ancora potremmo aprire a sinistra in realtà vediamo con cosa va a counterare lui con una torre bombardiera ma chi è che gioca ancora la torre bombardiera attenzione questo però è comodissimo perché comunque il nostro bombarolo può attirare una hit andiamo a fermare subito il royal con il mini pecca una ripartenza immediata con log rider di nuovo lui potrebbe giocare un principe non sappiamo però non abbia una truppa oh bruttissimi i luri di cavernicoli però il mini pecca riesce a toglierne uno comunque addirittura una bellissima hit forse due oh peccato pensavo arrivassero due hit sui luri di cavernicoli abbiamo un attimo riportato la situazione alla parità quasi avete visto che comodità avere la possibilità di poter giocare due attacchi quindi hog rider e in questo caso la rete da battaglia mascalzoni per counterare impatta sul mascalzone io riparto con la rete da battaglia intanto la rete che parte c'è un drago non lo può fermare non lo può fermare oh beh il vortex si ovviamente il drago no l'importante è che i mascalzoni dietro vanno a bruciarsi il suo baby dragon senza assumire danno 1592 2332 sta girando bene mi piace un sacco questo deck e vi ricordo se vi piacciono i miei video di clash ragazzi un bel pollicione in su mi raccomando iscrivetevi al canale dai ragazzi aiutatemi a crescere let's go che cosa gioca lui vai devo andare con un tronco non ho ben capito la sua scelta ok era quella di perdere probabilmente la sua scelta fermalo un attimo mini pecca devastante qui io vado a riattaccare molto easy con lui deve pensare adesso a difendere al mini pecca non lo difende ah io vado in fireball easy proprio fireball su torre e torre bombardiera perde la torre abbiamo attaccato anche un pochettino la torre di sinistra mi serve immediatamente un mini instant 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 anche un bombarolo anche un bombarolo vai vai fermalo 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 perfetto lui al rocket non posso dargli troppo troppo spazio andiamo di nuovo con log rider ad attaccare sulla sinistra deve pensare anche a difendere dove utilizzerà lui il suo elisir è un bel azzardo questo io perdo la torre perdo ma allora qua ho sbagliato ho esagerato gli ho regalato gli ho regalato non la partita ma gli ho regalato la possibilità di riaprire la partita ho fatto un errore ho peccato di superbia diciamo no anche mi scliccato i mascalzoni però ci è andata bene attenzione ho peccato un po di superbia volevo esagerare mamma mia ragazzi il bombarolo fa troppo male la rete della battaglia vabbè la andremo a chiudere probabilmente in questo modo lui va a mettere addirittura davanti una struttura noi andiamo con il nostro tronco a fare male fermiamo un secondo i suoi luridi pronto a ripartire con log in realtà è fatta o grider di nuovo prendiamo col tronco ci portiamo la torre a portata e lui non può fare più nulla let's go ottimo 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 ragazzi io vi invito sempre ad utilizzare questo deck io mi sto trovando davvero benissimo c'è da dire che senza il mago di ghiaccio l'attacco è diventato molto più incisivo spero che questo video vi sia piaciuto io vi mando un abbraccio grande un bacione ci vediamo al prossimo video di clash ciao 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 ciao